Il fenomeno dell'erosione costiera ha colpito quasi tutte le spiagge dell'Agrigentino, ma era Clea Minoa, assunto dimensioni notevoli, provocando un grave arretramento della linea di costa. Era il mese scorso quando l'associazione ambientalista Maramico Agrigento denunciava con queste parole un fenomeno che continua a divorare metri di spiaggia e del vicino bosco, con conseguente abbattimento degli alberi. Sull'argomento è ritornato a parlare il responsabile di Maramico, Claudio Lombardo, che nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo video, realizzato in parte grazie anche a riprese aeree effettuate tramite drone, mostrante le attuali condizioni della spiaggia di Eraclea Minoa. La constatazione, ora come in passato, è purtroppo sempre la stessa. L'erosione costiera, dopo aver inghiottito metri e metri di spiaggia dorata, scrivono dall'associazione Maramico, continua ad avanzare dentro il boschetto di Eraclea Minoa. Il rischio sarebbe concreto. Nei giorni scorsi, un tratto della spiaggia è stato chiuso e reso inaccessibile a causa del riscontrato rischio di cedimento delle radici degli alberi della Pineta, causato dall'erosione costiera, con il conseguente pericolo di caduta degli stessi alberi. A stabilirlo, un'ordinanza della Capitaneria di Porto Empedocle. Oltre a ciò, il danno paesaggistico e ambientale non è indifferente. Non possiamo assistere a questa lenta agonia, continua Lombardo. Il sindaco deve chiedere lo stato di calamità naturale al presidente Musumeci. Si deve fare qualcosa, conclude, per salvaguardare le spiagge e il boschetto di Eraclea Minoa.